Hello Youtube Ciao a tutti amici di Youtube Questo è il mio primo video ASMR tutto in italiano ed è dedicato alla community ASMR Italia blogfree.net che trovate linkato sul mio canale c'è anche un forum dove si parla di ASMR e tutto quello che fa parte del meraviglioso mondo dell'ASMR in questo video farò alcuni scratching spero che vi piaccia enjoy sssssh grazie Grazie. 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 Grazie.